Il presidente del Consiglio regionale Folino è il presidente della Commissione dei Lucani all'estero di Sanza nella capitale cilena per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Fa piacere constatare che tra gli italiani di Santiago batte forte un cuore lucano, lo ha detto Folino nel corso della manifestazione svolta presso il Club Stadio Italiano, un complesso ricreativo degli italiani del Cile di cui è presidente il lucano Rocco Inserrato, rappresentante per il Sud America nella Commissione Lucani all'estero. L'ambasciatore italiano in Cile Vincenzo Palladino, compiaciuto per la presenza della regione Basilicata, ha sottolineato che i lucani qui sono molto stimati. All'ambasciatore e all'arcivescovo di Santiago medaglie di riconoscimento della regione Basilicata. Nell'assicurare che si continuerà a sostenere le associazioni lucane operante in Cile, Folino e Di Sanza hanno consegnato ad una famiglia di origini lucane un contributo di 2000 euro nell'ambito di un programma di aiuti per i lucani colpiti dal terremoto di un anno fa in Cile.